È un momento molto molto particolare, a dire la verità la città esportiva Joan Gamper è distante perché non c'è la geografia, in Barcellona 20 minuti di mattina sta le Ramblas, quindi è piuttosto isolata e quindi non si percepisce il clima pesante e anche un po' primente, si percepiva nelle Ramblas sono due momenti completamente diversi, perché è vero che anche qui il clima è sommesso ma nelle Ramblas è in continuo, le Ramblas ancora adesso si stanno andando a stare che vengono di fatto un po' improvvisati in tutta la zona pesanale che porta la portata di Catalonia fino al mare a portare omasi, a portare piedi anche solo a commuoversi e a rimanere a una qualia